Le istituzioni europee sono a lavoro sul nuovo regolamento per le spedizioni internazionali di rifiuti. Le imprese del riciclo chiedono di tutelare il commercio internazionale, soprattutto rispetto alla materia prima e seconda end of waste, in filiere chiave come quella dei rottami ferrosi e della carta da macero. Che cosa risponde la Commissione? Come sapete la Commissione ha fatto una proposta l'anno scorso, in questo momento c'è il processo di codecisione tra Parlamento europeo e Consiglio, quindi la Commissione chiaramente partecipa nelle riunioni del processo di codecisione, siamo al corrente di questa preoccupazione. L'idea chiaramente non è di vietare gli export, ma è più che altro di assicurarsi che qualora il rifiuto venga esportato verso un paese terzo, si abbiano le stesse condizioni ambientali, proprio per questo abbiamo previsto un doppio sistema, prima di approvazione dello Stato membro e in secondo luogo di certificazione da parte terza, quindi un audit da parte terza per quanto riguarda l'impianto specifico, da fare dall'impresa che vuole esportare. Chiaramente si può ragionare sui tempi di transizione perché siamo al corrente che attualmente la capacità di riciclo, lo abbiamo scritto noi stessi nel nostro Impact Assessment, che esiste in Europa, non è sufficiente per assorbire tutti i rifiuti che vengono riciclati in Europa e quindi questa è un'opportunità anche, volevo dire, non soltanto per dire vogliamo continuare ad esportare, ma potrebbe anche essere un'opportunità di mettere ancora più pressione sugli Stati membri che hanno tassi di riciclo troppo bassi per incrementare i tassi di riciclo. C'è margine per pensare ad una armonizzazione del sistema dell'endowaste e quindi a liberare il commercio di quello che è diventato prodotto rispetto a quello che invece resta ancora rifiuto? Chiaramente questa è una grande priorità nel piano azione dell'economia circolare adottata a marzo del 2020, l'idea è proprio quella di fare endowaste su scala europea, abbiamo fatto uno studio del Centro Comune di Ricerca che è stato pubblicato qualche mese fa, identifica dei settori prioritari come la plastica, il tessile, la gomma, ma anche la carta e i prodotti della costruzione e stiamo lavorando già ai criteri specifici per i cinque settori che ho identificato in vista di fare degli endowaste su scala europea per il 2024.